Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato una risoluzione che ho proposto io insieme ad altri ed è stata approvata all'unanimità, quindi un bel gesto e un passo avanti significativo nell'individuare per le aree colpite dal terremoto l'estensione della zona economica speciale che significherebbe per tutte quelle aree creare incentivi, defiscalizzazione e semplificazione amministrativa per chi vuole creare insediamenti produttivi e imprese e crediamo che il terremoto delle Marche sia sicuramente un'area che merita delle forti agevolazioni per chi vuole investire e creare insediamenti produttivi. Non è un provvedimento solamente dal punto di vista economico finanziario significativo ma proprio dal punto di vista sociale e imprenditoriale? Sì, le imprese in quelle zone fanno molta fatica a ripartire e soprattutto a crearsi di nuove aree industriali e produttive. Riteniamo che un incentivo così importante, tenete conto che nel decreto crescita per le ZES sono già stanziati 300 milioni di euro ma inoltre dà la possibilità, la norma, di utilizzare il fondo di coesione sociale anche creando dei progetti, dei veicoli finanziari che possano capitalizzare e fare investimenti a rischio e in qualche modo dare veramente sostegno alle imprese che vogliono fare insediamento produttivo, ricerca, innovazione, tecnologia. Cioè là c'è bisogno di incentivare le imprese ad investire, a ripartire e a creare nuovi posti di lavoro. Ecco, la zona economica speciale per come era stata pensata nel decreto crescita dal governo potrebbe essere una vera opportunità.